Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e mamma mia! Mamma mia! Ho finito la IA! Ho finito la IA! Mamma mia ragazzi! Quanto hype per la World Cup di oggi! Meravigliosa quella che abbiamo visto ieri! Le duo sono state incredibili! Io purtroppo sto registrando al game numero 5 quindi non so ancora chi sarà il vincitore! Me lo direte questa mattina in live ma c'è da dire che è assurdo il livello di gameplay che si sta vedendo in questa competizione unica videoludica! Nel video di oggi però ragazzi parleremo della primissima immagine ufficiale della season numero 10 è stata rilasciata non direttamente da Fortnite ve la faccio vedere ma è super super ufficiale e poi ragazzi il concerto di Marshmallow tutte le notizie tutti gli aggiornamenti su questo secondo evento è dedicato alla musica in collaborazione con un DJ in Fortnite vi farò vedere delle cose e ovviamente ragazzi tutti i leaks per tenervi aggiornati sempre anche per il dietro le quinte del nostro Fortnite prima però volevo ringraziare di cuore tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XUDERONE grazie di cuore ragazzi per sopportarmi e per sopportarmi nello shop quando ci appazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live a prima questa è importante raga questa voglio che ci pensiate bene la domandina ragazzi la domandina e non può che essere semplicemente una chi sarà il campione del mondo di Fortnite secondo voi ragazzi guardate meravigliosa la coppa in oro due ne sono state assegnate ieri ai vincitori del duos una verrà assegnata oggi al campione assoluto chi è secondo voi quello che vincerà scrivetemelo qua sotto nei commenti secondo me ragazzi è molto favorito acqua del team cooler perché per un motivo molto semplice a parte che è un pazzo è veramente un pazzo a giocare ed è uno dei pochissimi che si è qualificato sia alle duo che alle singolo quindi ragazzi oltre ad avere un ottimo gioco di squadra è anche un ottimissimo giocatore in singolo secondo me lui ha delle chance notevoli di portarsi a casa il risultato ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere questa bellissima immagine creata apposta per la sfera di fortnite e il nostro nucleo oramai è in prossimità di distruzione si sta destabilizzando completamente volevo farvi vedere ragazzi quello che vediamo tutti in questo momento in game e come vedete si sentono sentite i suoni vi alzo il volume ci sono dei suoni che lasciano intendere che la distruzione è imminente e anche i colori al suo interno sono diventati molto molto più intensi e anche molto molto più veloci per quello che riguarda proprio gli effetti dedicati al nucleo sappiamo ragazzi che sono tre le fasi della sfera dispone del saccheggio siamo praticamente in prossimità della fase numero 3 e quindi della possibile esplosione che ci condurrà ovviamente alla season numero 10 ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua finalmente la primissima immagine immagine ufficiale della season 10 quella che state vedendo ragazzi al mio fianco non è altro che un'immagine presa dallo store di ps4 voglio farvela vedere un pochettino più da vicino eccola qua si nota subito l'autobus della battaglia classico la scritta fortnite ma guardate un attimo qualche secondo per cosa notate forse non l'avete vista ma come sfondo ragazzi c'è una x e per chi non lo sapesse la x sta ad indicare il numero 10 nei numeri romani se non ricordo male quindi fortnite season 10 c'è una x magari si chiamerà fortnite season x non lo sappiamo sappiamo che questa immagine è ufficiale e molto probabilmente da oggi domani al massimo cominceremo a vedere i teaser quelli che ci vengono proposti con delle piccole anticipazioni sulla possibilità eh di intravedere la trama della season futura sappiamo che nella season eh 8 sono stati 4 i teaser che avevano formato il teschio nella season 9 sono stati 3 quindi se fossero 4 inizieranno oggi se fossero 3 inizieranno domani la cosa importante è che inizino e che possiamo vederli ma andiamo avanti ancora ragazzi ed ecco qua vi ricordo lo spray che ci è stato regalato tutti di tutti voi sicuramente lo avranno ottenuto bastava solo guardare 20 minuti della eh della diretta ovviamente delle duo ma non abbiate paura perché anche oggi se guardate 20 minuti della finale io sarò in diretta ragazzi con tutta la fase eh finale potremo ottenere oltre a questo spray anche la copertura delle armi quindi mi raccomando buttateci una ventina di minuti se volete ottenere due regali gratuiti che non si buttano mai via e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento che è il concerto di marshmallow ho avuto la fortuna eh eh ieri notte di essere in eh davanti al computer alle due stavo aspettando lo shop e questo è quello che è accaduto pochissimi minuti prima eh delle due grazie grazie qua gli chiede cosa pensi di fortuna visto che giochi da tanto mi sono rotto le palle però purtroppo prendo i milioni quindi ovviamente vado avanti a giocare mi coloro i capelli come se fosse una femminuccia ma la cosa piace alla gente e ovviamente i milioni che prendo dalla redbull mi fanno andare avanti e mi tengo uno sveglio per le sessioni di gioco questo è quello che ha detto poi la genia vuole parlare con marshmallow ma purtroppo marshmallow non parla è un segreto da dirmi si può ninja avere il permesso di darlo sì marshmallow farà un concerto un concerto è un concerto è un concerto è un concerto c'era ninja che era un attimino sotto l'effetto di caffeina in quel momento ragazzi ma va ad annunciare ufficialmente il concerto sappiamo anche la data ragazzi alle 19 di questa sera avremo la fortuna di vedere un nuovo concerto del marshmallow in diretta dalle world cup e quindi perché non godercelo insieme e siamo arrivati ragazzi ormai alla fine l'ultima immagine è il bao bros ultimo pacchetto ancora criptato della patch 9.40 non sappiamo se venga decryptato prima della nuova patch che in realtà sarà quella dedicata alla season 10 vi ricordo che sono già tre mesi che i fratelli bao rarità epica sono lì in attesa di poter uscire e di poter essere giocati saranno a tema a questo punto della season 10 no non credo io mi auguro davvero che arrivino prima del primo agosto beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao e non mi parte mai l'altro ciao 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 ciao